Conservatorio Casella, Ollus, Padovani e Legambiente insieme il 23 novembre. L'iniziativa tradizionale di Legambiente, Puliamo il Mondo, viene declinata in Puliamo il Mondo dai pregiudizi e dalla violenza contro le donne. La campagna regionale per la prima volta si chiude all'Aquila. È un appuntamento importante quello del prossimo 23 novembre perché chiude la nostra campagna che tiene insieme il tema della giustizia ambientale ma anche sociale ed economica. Nel senso che bisogna fare un passaggio importante nel tenere insieme tutti i pezzi della nostra società a partire dal tema della parità di genere. Purtroppo il tema della violenza contro le donne è stato molto attenzionato nell'ultimo periodo per i gravi episodi di cronaca e abbiamo avuto la sensibilità di unire questa nostra campagna con forza partendo dalla costa dei Trabocchi fino ad arrivare all'Aquila. Un percorso che è durato più mesi ma che con forza vuole tenere insieme questo obiettivo. La mattina sarà dedicata come sempre alla pulizia del Parco del Castello. Nel pomeriggio invece alle 17 ci sarà il melologo del testo della giornalista e scrittrice Monica Pelliccione con musica della compositrice Rossella Spinosa e con voce recitante dell'attrice Sonia Grandis. Melologo che poi farà il giro dei vari teatri nazionali. Lo spettacolo sarà anticipato da un'esibizione di un duo del Conservatorio Casella. L'aspetto importante è quello di solidarietà. È una giornata che è dedicata proprio alla violenza sulle donne e alla protezione dell'ambiente. Abbiamo deciso di collaborare con loro perché per noi è sempre stata importante la difesa delle parti debole della società e quindi delle donne. Facciamo ogni anno l'iniziativa del premio donna e quindi abbiamo sposato questa iniziativa e soprattutto perché devoliamo quello che riusciremo a raccogliere attraverso lo spettacolo di Zittita proprio ai centri antiviolenza abruzzesi. Quindi per noi è un'iniziativa molto importante soprattutto poi in questi giorni.